Cirfoot adesso sta garantendo i servizi essenziali di ristorazione ai 240 ospedali o strutture sociosanitarie in tutta Italia, ma sono chiuse le scuole, sono chiuse tantissime aziende e sono chiuse anche i locali commerciali. Ecco allora che come molte imprese abbiamo dovuto ripensare a quelle che possono essere le modalità con cui però garantire i nostri servizi, anche in questa nuova modalità e quindi da remoto e la soluzione non poteva che andare in un'ottica di omnicanalità e di digitalizzazione dei servizi. Ormai siamo diventati tutti molto tecnologici e soprattutto la casa è diventata il cuore della nostra vita. Quindi per proporre e promuovere il valore del cibo e la cultura del cibo, con questo progetto che è un portale hashtag Cirfoot con te, ha voluto ricreare… E quindi Cirfoot con te, parliamo un po' proprio di questo progetto. Cirfoot con te, Cirfoot con te è diciamo un portale col quale si vuole ricreare un'empatia digitale, permettimi lo simoro, però adesso è il nuovo modo che abbiamo da comunicare in remoto e per aiutare anche da lontano, dicevo, le famiglie, le mamme come noi, i lavoratori, anche a prendersi cura della propria alimentazione, del proprio benessere, della salute e anche del piacere di stare insieme. È diviso in tre macro rubriche, quindi a una parte di cucina, di benessere e per i più piccoli. Oggi tra l'altro parte la terza settimana del palinsesto e quindi di aggiornamento. Nella parte di cucina ci sono anche protagonisti i nostri chef, i chef Cirfoot che vanno in onda con le video ricette e tutorial, piuttosto che notizie utili su come fare il pane in casa, il dado, eccetera. Ci sono però approfondimenti di nutrizione con degli esperti. E in un ultimo anche giocheremo, impareremo con i più piccoli, modalità con la mascotte e il ghiotto, divertente e ludico, per continuare a parlare e dare consigli di educazione alimentare. Certo, perché i bambini, comunque ormai risaputo, le scuole non apriranno fino a settembre e quindi ci sarà in programma anche qualche implementazione per l'estate o comunque aggiornerete di volta in volta? Sì, abbiamo già un palinsesto dove abbiamo previsto tanti aggiornamenti, proprio perché essendo per noi la funzione sociale del pasto a scuola venuta meno e adesso è delegato la totale nutrizione ovviamente alle famiglie e alle mamme. E credimi Paola che sia da un punto di vista di tempo, che di problemi economici, che di problemi a volte criticità culturali, non tutte le mamme possono garantire un pasto sano e completo tutti i giorni. Ecco allora che con questo portale si vogliono dare anche informazioni e nutrizioni utili per come nutrire ai nostri piccoli. Perfetto, e Cheerfood comunque è sempre stata anche in prima linea diciamo sulla sostenibilità, quindi quali sono anche le indicazioni che voi date in questa direzione? Sì, per noi non ci può essere un progetto innovativo che non sia sostenibile, questo è un asset per noi strategico ovviamente, quindi ci saranno rubriche, approfondimenti anche per come utilizzare ed avere comportamenti sostenibili e quindi non solo anche come riciclare, ma soprattutto come non sprecare e come ci dobbiamo anche comportare per salvaguardare la nostra salute e il nostro pianeta. Molto bene, e per quanto riguarda la fase 2 di Cheerfood, come agirete? La fase 2 di Cheerfood è per forza, deve tenere per forza conto della nuova customer journey dei nostri consumatori e quindi stiamo pensando ai servizi di ristorazione riprogettando sia in store con nuove modalità di fruizione e quindi sto pensando ad esempio ai locali aziendali piuttosto che SSF nella progettazione dei layout, nel contingentare gli ingressi, nel mettere in sicurezza l'approvvigionamento di salad piuttosto che altre portate, ma anche offline e quindi online, perdonami, quindi non solo in store, ma anche con l'inserimento di integrazione con servizi digitali e anche per il pagamento, la prenotazione o comunque la nuova fruizione del pasto.